Niccolò Belli nel primo tempo si è sofferto poi nel secondo però l'importante è tornare subito alla vittoria Sì, abbiamo forse abbassato un po' il ritmo all'inizio del terzo quarto e loro hanno avuto un momento dove sono tornati in partita Noi però siamo stati bravi a tenere la testa alta, a giocare insieme e ovviamente a portare il risultato a casa Siamo felici perché è stata una brutta sconfitta quella della scuola di settimana Adesso siamo con la testa alta, dobbiamo già pensare da lunedì a Monopoli che verrà ad affrontarci di nuovo qui in casa Nel finale fondamentali i punti di La Quintana e i liberi tuoi, tanta freddezza ci hai voluto in quel momento Sì, comunque siamo una squadra di grande talento, siamo tutti molto bravi, conosciamo la pallacanestro e sotto pressione forse diamo anche il meglio di noi e lo sport comunque è questo, mette sotto pressione costante ogni minuto, dall'inizio della partita fino alla fine Sono contento di non aver sbagliato i libri fondamentali Vanni è un giocatore fantastico quindi non avevamo dubbi nessuno di noi che facesse un'ottima partita e ovviamente anche i punti fondamentali